Ciao, sono Sandro Iovine e insieme scopriremo il mondo delle immagini. Molti pensano che la fotografia in quanto riproduzione meccanica sia comprensibile a tutti. In realtà la fotografia, come tutte le immagini, richiede di essere inserita all'interno di un contesto culturale. Inoltre non siamo più abituati a osservare davvero quello che abbiamo di fronte, per cui durante il corso le prime esercitazioni che faremo saranno proprio per riacquisire, per recuperare questa capacità di guardare all'interno dell'immagine. Dopo ci occuperemo delle strutture della composizione e dell'inserimento dei significati all'interno delle immagini. Vi aspetto al corso per scoprire insieme questo fantastico mondo.